Voi lamentate lo spopolamento dell'area Vestina e anche la mancanza di alcuni servizi essenziali in alcuni centri del Pescarese, perché e come mai secondo voi si sta assistendo a questo spopolamento? Allora, intanto il dato è questo. Da dieci anni Penne ha perso 1.060 abitanti, ma la stessa cosa hanno fatto ancora di più tanti altri comuni montani. In realtà rispetto a questo non c'è nessuna manovra correttiva da parte della Giunta regionale che ha diminuito i servizi e ha posto nel nulla tutti i finanziamenti che erano stati stanziati dal governo del centro-sinistra. Sanità, perché si resta quando c'è il diritto alla salute in un posto, in un'area interna. L'ospedale San Massimo aspetta i primi 15 milioni di euro ormai da oltre due o tre anni. Sono tantissimi gli annunci. Forse è stato più annunciato questo che la vittoria dell'Italia agli europei. In realtà però, nell'unico posto dove ci dovrebbe essere il bando per i lavori del San Massimo, non c'è, e cioè sull'albopretorio dell'asile di Pescara. Una delibera di febbraio 2022 ha tolto gli ulteriori 12 milioni e mezzo stanziati dal centro-sinistra a vantaggio di altri ospedali. Come per l'ospedale, anche per la Loreto Penne. 7 milioni di euro lasciati dal governo di centro-sinistra con il masterplan che si univano ai 29 dell'ANAS, tolti, assicurazioni che sarebbero state ripristinate, sono passati tre anni del governo di centro-destra, quei soldi non sono più tornati. La stessa cosa per la scuola, per il liceo, per la scuola Marconi di Penne che sta nel palazzo de Sterlich a Liprandi. Anche qui grande giubilo per il bando della progettazione che è stato aggiudicato. Due offerte sono arrivate, il bando è stato aggiudicato dopo due anni. Stiamo parlando di un bando aggiudicato per la progettazione e non per i lavori. Nel 2022 i soldi, i fondi, sono dell'anno 2017. Stessa cosa per le piccole e medie imprese, quelle colpite dalla zona rossa dell'ordinanza del presidente Marsiglio. 1 milione e 260 mila euro stanziati su richiesta delle forze di centro-sinistra. Sono passati 655 giorni e non c'è ancora neanche il bando. Quando il centro-destra parla di spopolamento, noi vogliamo ricordare che non c'è una strategia e che quelle aree, quelle zone sono completamente abbandonate.